Resta in via Gabrielli a Gubbio nel cuore del quartiere San Martino, nell'edificio di proprietà della società operaia, la sede INAIL che ripristina le attività dopo l'emergenza Covid. Il taglio del nastro alla presenza del direttore regionale Alessandra Ligi, che con il sindaco Filippo Stirati e l'assessore al patrimonio Rita Cecchetti ha lavorato a lungo per far sì che il servizio restasse in città. L'obiettivo è di mantenere un servizio di prossimità. Si tratta di accertamenti medico-legali, quindi di visite sostanzialmente, di venire incontro alle esigenze dei lavoratori infortunati della popolazione, del comprensorio e Gubbino sul posto. Il servizio è ripristinato rispetto ad un'attività che abbiamo dovuto lasciare prima della pandemia e ad oggi, quindi con soddisfazione, grazie all'impegno del Comune, siamo riusciti a riattivare il nostro centro, la nostra agenzia. Al momento è aperto un giorno a settimana in ragione delle esigenze manifestate dalla popolazione lavorativa. Il lunedì, la mattina, dalle 8.30 a mezzogiorno e 30 e il pomeriggio della stessa giornata, dalle 15 alle 17. L'ambulatorio, dotato di due sanitari, sarà a disposizione di quanti qui dovranno esperire le visite ai fini della documentazione INAIL, in un periodo che, con il riattivarsi di molte attività, ha visto anche un rialzo dei casi di infortunio. Al 31 dicembre del 2021 erano 26 i casi di morti sul lavoro, più 36,8% rispetto al 2019. In calo, invece, gli infortuni rispetto al 2019, del 16,1%, il rialzo alle malattie professionali, 2310 quelle denunciate nel 2021.